Quando dici sto diventando spirituale, devi capire, lo yoga è la metodologia. Essenzialmente il tuo sforzo è quello di allontanarti dai modi del corpo e di allinearti con un'altra dimensione di natura dentro di noi. Quindi, dalla natura superficiale della fisicità, vogliamo allinearci con la natura più profonda della natura interiore. Un aspetto importante della tua fisicità è la tua genetica. Quindi, la vita si ripete. Pensi di essere una nuova vita. Non sottovalutare i morti. Il tuo bisnonno sta ridendo di te, vivendo attraverso te. Sai, qualcuno ha detto, lascia i morti ai morti? Lo hai dimenticato? Duemila anni fa, qualcuno disse, lascia i morti ai morti. Non è così facile mettere i morti a riposare. Solo perché li hai inscatolati e seppelliti? Oppure, se sei indiano, non ti fidi delle scatole e della sepoltura? Sai che potrebbero trovare una via d'uscita? Quindi li hai bruciati completamente. Non solo li hai bruciati, ma hai preso le loro ceneri e le hai messi in tre fiumi diversi. Gli indiani si prendono molta cura di queste cose. Perché esiste tutta una scienza su come assicurarsi che i morti restino morti e non si facciano sentire. Si faranno sentire. In così tanti modi si stanno facendo sentire. Per metterli a riposo, Il modo migliore per metterli a riposo è che ci sia una distanza tra te e il tuo corpo. Sono finiti. Solo se ti identifichi con il tuo corpo, si faranno sentire nella tua vita in cento modi diversi. Molti di voi se ne accorgeranno. Quando avevi 18-20 anni pensavi, non sarò mai come mia madre o mio padre. Io sono una rivoluzione, sai. Tutti gli ipi sto chiedendo a voi. Ma hai 45 anni e all'improvviso inizi a parlare come tua madre o tuo padre. Ti siedi così, stai in piedi così. Sembra che tu vada in giro proprio così. Lentamente prendono controllo di te dall'interno. Tutto ciò a cui hai resistito. Pensavi di essere una grande rivoluzione solo perché fumavi erba. Ma a 40-50 anni lentamente iniziano a manifestarsi. A ridere della tua rivoluzione. Perché lasciare i morti e i morti non è una cosa semplice. quindi possiamo farlo? Certamente. l'intero sistema dello yoga dai processi più semplici ai più sofisticati processi dello yoga è essenzialmente ideato per questo. Affinché tu diventi una vita totalmente nuova. Nulla del passato dovrebbe rimanere. abbiamo grande stima e rispetto per il passato perché ci hanno portato fin qui. ma non vogliamo portarli con noi. non vogliamo portarli nel domani. Noi vogliamo lasciarli lì. Capiamo che sono le nostre fondamenta. Ma non vogliamo che siano il fiore e il frutto del futuro. vogliamo che questa sia una vita nuova. non accadrà semplicemente perché mentalmente ti ribelli. Geneticamente, devi distanziarti. In India al giorno d'oggi si sta fievolendo, ma altrimenti nelle famiglie indiane è molto molto importante compiere questi karma per i defunti. La gente pensa che questo sia un modo per onorare i propri antenati. Questo non è per onorarli. è per distanziarti. Uno sforzo costante per metterli da parte perché continueranno a saltare su. Non da qualche altra parte. Proprio qui dentro di te. In così tanti modi continuano a saltare su. Mettere i morti completamente a riposo significa in un certo senso che sei liberato. Perché i cicli del passato sono finiti per te. Sei una fioritura completamente nuova. Mettere i morti Mettere i morti